Sto notando che Bernie ha sempre la stessa posa, eppure tra una foto e l'altra sono passati anni. Beh, sì, a questo proposito, io non sono mai venuto male in una sola fotografia. È assolutamente impossibile. Ma scusa, deve pure esserci una foto in cui sei venuto male? No, bella, nemmeno una. Quella delle elementari, tutti abbiamo delle foto orrende, fammi... No, il sottoscritto no. Io vengo sempre come il fico pazzesco che tutti vorrebbero essere, al contrario di Marshall, che viene sempre come lo scemo del villaggio. Bernie aveva ragione, lo zio Marshall ha un sacco di belle qualità, ma non viene bene in fotografia. Non vengo sempre male, ad esempio... Ecco, ecco, in questa foto ho gli occhi aperti. Oh, ci hai messo davvero un fiocco! Uno stuzzichino? Ma sì. Ahà, beccato! Barney al naturale. Ne sei sicura? Non può essere, stavi mangiando una patatina. Dov'è la patatina? È fisicamente impossibile per me venire male in fotografia. Non so perché. Chiedila a lui. Non ho parole. Oh, accidenti, mi è caduto il telefono, me la raccogli? Sì, certo. Non ridi, brutto disgraziato, beccato! Ne sei sicura? Ma come diavolo hai fatto? Quando l'ho scattata non eri nemmeno... La fotocamera mi ama. Mi ama tanto che vorrebbe saltarmi addosso, vorrebbe indossare della biancheria intima sexy, vorrebbe ammettere un disco di musica soft, abbassare le luci e fare tutto lei mentre io me la godo ad occhi chiusi. Barney, sai che hai un buco nella gi... Cosa? Dove? Adesso, Marshall! Accidenti!